Una diversa attenzione alle politiche sociali, dal disagio abitativo alla tutela della disabilità fino al contrasto agli sprechi alimentari. Parte da temi molto specifici il programma elettorale di Civici Pesaro, declinazione strutturata del movimento Civici Marche che nell'ambito del progetto Utopia al Parco Miralfiore ha presentato programma e 26 candidati che faranno parte della coalizione a sostegno della candidatura a sindaco di Marco Lanzi, capolista Andrea Boccanera, padre fondatore dello stesso progetto Utopia. Civici Pesaro si batterà per la difesa degli ultimi e dei più deboli. Abbiamo parlato, ci batteremo per gli affitti, problema grandissimo a città di Pesaro, l'istituzione di una fondazione che possa garantire fiducia bancarie a garanzia degli affitti. Ci batteremo per il recupero alimentare che a Pesaro non funziona. Ci batteremo per essere a fianco alle famiglie, riduzione concreta di tutte le tariffe possibili in base all'ISE. ogni possibile operazione che faccia stare vicino alle famiglie bisognose e alle famiglie in difficoltà. Abbiamo messo in piedi una lista molto valida, fatta di persone della società civile, quindi non di persone legate strettamente alla politica, professionisti, persone di tutta l'età, di tutte le estrazioni sociali provenienti da tutti i quartieri della città, appunto per poter dare una mano concreta alla coalizione di Marco Lanzi che ce la può fare ad andare al ballottaggio. Marco Lanzi può essere il cambiamento. A me è piaciuto Ricci, piace Biancani, è un amico, ma bisogna cambiare perché i temi sociali a Pesaro sono anni che sono abbandonati e non sono portati avanti come una degna città che è capitale della cultura. Vengo al centro-sinistra, ho sempre collaborato da anni con le amministrazioni, ma oggi è il momento di essere concreti, di essere coerenti con le proprie scelte, le proprie idee. I servizi sociali, l'ambiente e altre tematiche di assessorati sono indegnamente portati avanti negli anni e quindi anche la mia candidatura, il mio espormi è per dire questo, bisogna essere coerenti e cambiare strategie, cambiare linea perché Pesaro e le famiglie hanno bisogno di cambiare.